La fuga di Viola Copelli Anna si annoiava a morte. Era seduta da tempo in memore davanti alla scrivania con il libro di matematica aperto sulla trentesima pagina e le penne sparse tutto intorno all'astuccio. Ma non aveva nessuna voglia di fare i compiti. Lei voleva uscire, divertirsi, voleva fare tutto tranne che rimanere in camera ad annoiarsi. Trovava quella rigorosità, quello stress che la accompagnavano in ogni istante della sua vita inutili e monotoni e voleva scappare. Scappare da tutto e da tutti. Ma dove poteva andare? Le persone non possono fuggire come se niente fosse. Guardandosi intorno vide un pennello nascosto tra le molte penne sparse sul tavolo. Sarebbe stato quello ad aiutarla. Prese il pennello e cominciò a disegnare intorno a sé candide nuvole, un cielo azzurro e sereno e magnifici fiori, così che in men che non si dica si ritrovò a volteggiare, spensierata in un magnifico prato tra le montagne. Mentre cominciava a correre, i suoi pensieri e le sue preoccupazioni volavano via, come i suoi capelli, mossi dal vento. Finalmente si sentiva in pace e leggera, leggera come una nuvola. da quel momento in poi sarebbe stata lei a prendere in mano le redini della sua vita e decidere come andare avanti e con una sola pennellata avrebbe potuto trovarsi sulla vetta più alta del mondo, nello spazio infinito o in mezzo al mare. Stanca di correre, Anna si fermò per riprendere fiato. Si sedette sull'erba e raccolse un bellissimo fiore colorato. A un certo punto la terra cominciò a tremare e come colpito da una grandissima forza invisibile il prato si ruppe in mille pezzi e Anna cadde nel vuoto senza sapere dove sarebbe finita. La risposta arrivò in un baleno. Con un gran tonfo si ritrovò sul pavimento della sua stanza. Continuava però a sentire un rumore insistente e si accorse che qualcuno bussava alla porta della sua camera. Che c'è? chiese Anna. Ti chiamiamo da molto tempo. Tutto bene? La ragazza riconobbe la voce di sua madre e rispose Tutto a posto mamma. Tranquilla. Anna non riusciva ancora a capire quello che le era appena successo. È stato tutto un sogno. Allora niente era vero. Mentre pensava la ragazza si accorse che la sua mano stringeva ancora qualcosa. Un magnifico fiore colorato. Viola Copelli che era un sogno. Qui è un sogno. Quindi la ragazza si accorse Che era un sogno. Quindi Grazie.